Tra i festeggiamenti dei ragazzi del Chieti ovviamente ci sono anche gli avversari Federico Fanti, con me estremo difensore del Capistrello, è la squadra più forte? Sì, 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 sono allenato a tutto quanto, quindi complimenti a loro, complimenti alla dirigenza, complimenti allo staff, complimenti a tutti quanti. Complimenti anche a te perché insomma questo campionato ha certificato la tua forza tra i pali, due rigori sbagliati, mi dicevi a microfoni spenti non mi è mai successo. Sì, sì, è vero, però vabbè, chi gioca sbaglia, chi dita sbaglia, quindi non è un problema. Noi abbiamo provato a fare partenza solo che, ripeto, era una squadra nettamente più forte, quindi ci ha messo sotto.